Quattro importanti riconoscimenti sono stati assegnati in occasione dell'Assemblea Ordinaria dell'USSA che ha visto la partecipazione dei presidenti delle società affiliate all'Unione Società Sportive Altoatesine. La serata è stata occasione per consegnare le prestigiose onorificenze Una Vita per lo Sport ai dirigenti sportivi Ermanno Ogero e Ferdinando Ottaviani. Dopo aver gestito in prima fila parecchie società sportive, Ogero fa parte del Consiglio Direttivo del Giro delle Doromiti. Anche Ottaviani è stato impegnato in diversi sodalizi sportivi. Eletto nel Consiglio dell'USSA nel 2003, dal 2012 è vicepresidente della Circondario di Bressanone dell'USSA. Il direttivo dell'USSA ha inoltre conferito un riconoscimento speciale all'ex presidente della Giunta Provinciale Luis Tornalder e alla presidente della Südtirola Sporthilfe Assisport Alto Adige Walter Auserofer per l'impegno profuso nell'attività sportiva. Il presidente dell'Unione, il generale Carlo Bosin, ha poi ricordato che l'USSA, oltre a garantire assistenza legale e fiscale delle società affiliate, offre una copertura assicurativa. Presente tra gli altri anche il vicepresidente del VSS, Michael Pichler, con cui l'Unione ha avviato da tempo una proficua collaborazione.